Se state per completare la vostra casa e non volete rinunciare a pavimenti, rivestimenti eleganti, resistenti, a sanitari e rubinetteria di sicura affidabilità, se cercate un prodotto di prestigio, come le vasche idromassaggio Iacuzzi e Albares, le ceramiche di Gianni Versace e Laura Biagiotti, o il tradizionale Cotto Toscano, e se non volete rinunciare a tutto a tutto, venite a trovarci. Commercio al base, strada statale Olvie Palau, chilometro 4 e 800. Olvie. Grazie.